Oggi voglio parlarvi di una storia molto particolare che in un certo senso è parte integrante della storia calcistica della Corea del Sud, tanto che parlerò appunto della prima squadra professionistica della Corea. Quindi siamo in Corea del Sud verso la fine degli anni 70 e Choi Soon-young, presidente del gruppo Shindong, è divenuto il 39esimo presidente della federazione calcistica coreana, più precisamente era il 1979 e costui aveva il compito di formare una lega professionistica, per precisione la prima. Nel 1980 ha deciso di fondare l'Alleluia, il quale è sotto la guida del presidente Choi Soon-young e pertanto è divenuto il primo club calcistico ad essere professionista in Corea del Sud. Secondo le sue intenzioni Choi Soon-young era un devoto protestante e la squadra ha come obiettivo o come fine il lavoro missionario. Pertanto questo club è stato messo in carica dal Corea Christian Mission Center, piuttosto che sotto il gruppo Shindong. Anche se non esiste un rapporto diretto, vi è una squadra fondata in relazione all'Alleluia Football Team ed è lo Young Elephant Football Team, oggi conosciuta come il Jeju United Football Club, ma di questo parlerò in un altro video. Quindi siamo poi nel 1983 e viene inaugurata la prima lega di calcio professionistico in Corea del Sud, con l'Alleluia favorito. Nel primo anno della sua fondazione, con il rosa giocatore di spicco come Park Jong-sun la squadra, ha ottenuto 20 punti, quindi 6 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte, superando il Daewoo Royals, secondo ad un punto di distanza. E quindi è divenuto, così l'Alleluia, il primo club ad essere campione della K-League, ovvero il primo campionato professionistico coreano. Tuttavia la forza di questo club si è indebolito a causa dei trasferimenti o del ritiro dei giocatori che per diversi anni avevano fatto la differenza nel club, vedranno state la struttura principale della squadra anche da prima del professionismo e anche con altre squadre, soprattutto con il Posco o con il Rock Army, la squadra dell'esercito. Nella stagione 1984 il club missionario si è posizionato quarto con 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, mentre nel 1985 l'Alleluia è arrivato ultimo con sole 3 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Dopo la fine della terza stagione in K-League, la commissione direttiva del club ha comunicato che l'Alleluia si è ritirato dal campionato per iscriversi nuovamente a quello non professionistico che seguiva parallelamente ma che non si incrociava mai con quello professionistico il quale era una lega chiusa. E qui in quanto l'obiettivo principale era quello che si era un po' perso e che era quello di concentrarsi appunto nel lavoro missionario. Pertanto ha rinunciato a partecipare alla K-League. Il fattore decisivo che ha spinto l'Alleluia a poi passare al campionato dilettante o semiprofessionistico è stata la finale del campionato internazionale di calcio della Presidents' Cup 1984, nel quale l'Alleluia avviene in semifinale con il Team 88, la nazionale preparata in proiezione alle Olimpiadi del 1988. Qui si è in un certo senso inimicato il pubblico coreano il quale ha criticato il club missionario per aver vinto nonostante i numerosi falli. Quindi ha avuto un gioco duro e ha tratti anche scorrette e favoreggiamenti arbitrali. Quindi le proteste dei membri della Chiesa che hanno successivamente, già il pubblico non amava moltissimo questo club anche in seguito a questa partita. Ma quando è stato deciso di ritirarlo, i membri della Chiesa, quando hanno preso la notizia, hanno accusato Choi Sonny Young in quanto aveva deciso di vendere il club e di ritirarlo dal professionismo. Nel giugno 1985, quando la notizia della vendita della squadra è stata resa nota, i membri della Chiesa pertanto hanno protestato e non hanno accettato la cessione della squadra. E quindi da qui la squadra dell'Alleluia è diventata anche dilettante. C'era un giocatore che era uno dei più importanti, che era Lee Young Moo. Era solito esultare con un gol, ovvero fare il gesto della preghiera. E ora questo giocatore è addirittura un pastore protestante e quindi era iperreligioso. Lee Young Moo, che era un giocatore importantissimo ai tempi anche della nazionale sudcoreana, era famoso per le sue esultanze in cui pregava. Moo ha giocato per il Posco, il Rock Army e infine nell'Alleluia, oltre che con la nazionale, di cui è stato uno dei giocatori più importanti della sua generazione. Prima e dopo l'inizio della partita, e dopo aver segnato un gol, pregava sempre. Quando pregava, dal pubblico scoppiava un fragoroso applauso e quando la partita andava male, che fossero buddisti, cristiani o di altre ideologie politiche o religioni, battevano i piedi e le mani e iniziavano ad invocare e dicevano Young Moo segna un gol e prega. Già in coreano, ovviamente l'ho tradotto in italiano. Diciamo che in questo periodo di Coppa d'Asia, visto come è andata la Corea, forse dovrebbe iniziare a ricantare questo coro, che era Young Moo segna un gol e prega, anche perché la Coppa alla Corea manca da lontano 1960. e chissà se questo rito fatto da questo giocatore, ricantando questo coro, potrà portargli fortuna. Io vi saluto, ciao!